Musica Allora Barbara raccontaci questo eserbio Bellissimo, grande emozione la piazza e tutti i tifosi, insomma tutte le persone erano sugli spalti veramente eccezionali ringrazio tutta Rezzo ancora per l'opportunità che mi è stata data e beh il cavallo si è comportato benissimo molto leggero nella mano molto più liberato nel galoppo la mia lancia dondolava un po' comunque alla fine ho cercato di non mirare ma comunque sia andare più precisa possibile verso il rosso è andata comunque sia bene la velocità non è stata eccezionale ma è da correggere e da prepararsi meglio e poi bene, bene è una grande emozione, ho pianto c'era mio padre che mi ha abbracciato ha pianto anche lui e altri quartieristi hanno pianto cioè questa è una grande emozione veramente e l'abbraccio dei quartieristi bellissimo, è il più caloroso e quello mi piace di più anche perché visto i quartieristi si abbracciano quando sentono veramente qualcosa di forte, emozionante quindi così è stato e c'è stata grandissima emozione per tutti vi ringrazio ancora tante indicazioni sia dall'allenatore sia dal capitano sia dal rettore quindi tutti un po' mi hanno aiutato a costruire questa carriera e questo quattro quindi vi ringrazio vai da un bacione e un abbraccio forte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti